Ciao mamma, cosa stai facendo nel prato? Ho fatto da tanti tanti anni, ripeti? Tanti tanti anni che l'ho fatto, adesso non lo faccio più, però oggi volevo provare a farlo se sono ancora capace di restrellare. Ma è fatica, è fatica? Alla terra le basta. Dove non arrivano i macchinari arriva la nonna. Arriva la nonna, magari la nonna, sì, magari qualcosa so fare ancora, ma ben poco, ben poco, pochissimo. Quante volte l'hai fatta nella tua vita? Pensa quanti anni ho, siamo sempre fatti il contadino. Una volta si faceva tutto così a mano, sì, non c'era tanti attrezzi, ma sono passati ormai, ci fa tutto con gli attrezzi. Va bene, però questo qui è bello, è comodo, è bello anche, è bello. È nuovo? È il prezzo. È nuovo. Si vede che si usa poco adesso con i macchinari. Una volta si faceva tutto a mano, si tagliava, si voltava e si restrellava tutto a mano. Tutto a mano, però adesso è cambiato tutto, tutto è cambiato. Adesso sono i macchinari, facciamo prima. Ciao, 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 saluto tutti, ciao, ciao. Grazie. Grazie. Grazie.